benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo mercoledì 26 aprile del 2017 siamo nel giorno successivo alla cosiddetta festa della liberazione e oggi parleremo un po di liberazione diciamo così di cosa ha significato anche l'esperienza che abbiamo avuto in queste ore in questi giorni un saluto maria verita body nostro pdf a padova saluto andrea dolcini saluto giovanni barbaro e tutti coloro si stanno connettendo in questi primissimi secondi di trasmissione vi chiedo subito di fare un mi piace e un condividi alla diretta in maniera da far arrivare il nostro messaggio a più persone possibili oggi più che mai dopo un fine settimana come dire non fine settimana un ponte diciamo così pieno di discussioni polemiche che hanno riguardato il popolo della famiglia allora saluto giuseppe annichino saluto giovanna arminio fresca di anniversario primo anniversario della prima eletta del popolo della famiglia nelle istituzioni ricordo giovanna arminio consigliere municipale a bolsano appunto ehm grazie alle elezioni che si tennero nella fine di aprile o inizio maggio non ricordo del 2016 è la nostra prima eletta da allora abbiamo avuto un vice sindaco un altro consigliere comunale altri due consiglieri municipali insomma la crescita del movimento del popolo della famiglia è stata inarrestabile ma la prima è stata giovanna ricordiamolo sempre la nostra giovanna d'arco saluto luiz la mia mamma oggi è l'anniversario primo anniversario della morte di mio papà e dunque un abbraccio speciale a noi che della sterminata famiglia siamo rimasti quelli ancora in piedi dopo aver perso un po' tutti insomma ma questo è il signore che ci mette alla prova saluto marimar saluto paola porreca saluto raffaele adinolfi coordinatore in campania dove anche stanno crescendo le intese le liste del popolo della famiglia per le prossime amministrative saluto milena brindisi trabona alberto de marchi rita mesiti marco petrucci e allora se volete un mi piace e un condividi alla diretta di oggi e partiamo con la lettura del vangelo oggi il vangelo di giovanni si torna indietro diciamo il vangelo di giovanni siamo al terzo capitolo del vangelo di giovanni intanto è arrivata anche raffaella frullone che saluto ehm anima delle sentinelle in piedi che anche loro sono direttamente impegnate in questo periodo ehm con nuove iniziative delle sentinelle in tutte le città italiane saluto giuseppe focone sempre pdf campania saluto cristina zaccanti che invece è del popolo della famiglia del piemonte vi chiedo a tutti un mi piace e un condividi per far partire la diretta eh di oggi su più schermi eh possibili ehm intanto ehm eh sto per andare a leggere appunto un il passo del vangelo di oggi il passo del vangelo del giorno salutando anche franco brindisi e nicola vaccari oltre a Andrea Cavenaghi Rosa Grazia Pellegrino Mary Rossi anche lei colonna del popolo la famiglia Padova impegnata nel grande sforzo di costruzione della lista del popolo la famiglia a Padova per le prossime amministrative saluto anche Anna Russo ehm è uno sforzo ovviamente organizzativo importante chiunque possa ehm faccia eh sostegno a Mary Rossi a Danilo Bressan a Maria Laverita Boddi per la costruzione della lista a Padova tanto Mauro Ghila ci dice che Facebook non ha segnalato l'inizio della mia diretta sapete che noi subiamo tutte le censure possibili e allora facciamo una bella cosa lo dico a Federico D'Angeli a Mauro Ghila a Manuela Mirali a Priscavegni ovviamo alla censura che subiamo anche da parte di Facebook con un mi piace a questa diretta e con una raffica di condividi sulla vostra pagina in maniera che quelli che hanno provato a limitare l'impatto della nostra diretta non segnalando l'avvio della diretta via Facebook siano superati dal fatto ehm che ehm che noi ci arrangiamo da noi diciamo così insomma quindi facciamo nascere la diretta con le nostre condivisioni eh Rita Mesiti conferma che Facebook non ha segnalato l'avvio della diretta di stampa e Vangelo saluto Laura Quarta saluto Priscavegni eh fate la condivisione fate il mi piace fate il condividi e con questo ovviamo all'ennesimo tentativo di censura delle nostre parole operato dal brillante social network guidato eh fondato da Mark Zuckerberg andiamo a leggere il Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni capitolo 3 siamo nei versetti che vanno dal 16 al 21 in quel tempo Gesù disse a Nicodemo Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio e il giudizio è questo la luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio è parola del Signore come sempre quando leggiamo il Vangelo ci rendiamo conto di come il Vangelo sia esigente l'incontro con Cristo è esigente non è l'incontro con il volemose bene va bene tutto viva la santa misericordia intesa come qualcosa che fa rendere inesistente il peccato Gesù è esigente chi non crede in lui è condannato l'incontro è evidentemente questo è un incontro che costruisce le condizioni della fede della capacità di leggere ciò che capita nella nostra vita sia attraverso la lente della nostra libertà che però è coniugata alla lente della verità vedete questi occhiali hanno due lenti l'occhio destro l'occhio sinistro uniscono per andare a vedere allora siamo riusciti faticosamente a ripristinare la diretta dopo uno strano attacco diciamo così che è arrivato subito dopo la lettura del Vangelo vediamo se ripristinando la diretta si riesce anche a ripristinare diciamo così il contatto con ciascuno di voi rieccoci qua allora la prima parte della puntata l'abbiamo già fatta poi uno strano attacco ha reso impossibile andare avanti non era mai successo prima evidentemente i fatti di questi giorni le polemiche di questi giorni hanno provocato un surplus d'attenzione alle nostre dirette facebook prendo atto insomma abbastanza strano questo non ci sono state le notifiche da quello che capisco all'inizio della diretta c'è stato un attacco mentre andavamo in onda fatemi salutare jacopo pioli dalla cina che però c'è arrivato a vederci saluto il diacono marco luigi pucci tornata maria verita body c'è rosa grazia pellegrino jacopo segnala anche a lui non è stata segnalata la diretta a differenza delle altre volte eh saluto silvia lodà daniele paciosi chiede il saluto a federico sales da parte di daniele paciosi ecco silvia lodà eh vi chiedo visto che non segnalano non hanno segnalato l'inizio della diretta e non solo quando siamo andati avanti con la diretta ce l'hanno chiusa eh vi chiedo se è possibile di fare un mi piace un condividi subito per far partire la diretta di oggi e con più persone possibili all'ascolto saluto silvia lodà silvestro voltaggio dalla svizzera luciano simione da formia saluto carlo graziola lara mafeis ninna rello eh nessuna notifica della diretta eh e melania simoni dice non credo sia un caso eh di solito vengono notificate le dirette oggi a quanto pare hanno deciso che la diretta non andava notificata ehm alle persone che abitualmente seguono stampa e vangelo saluto mario cambuli saluto giusi ferlito paolo ruotolo eh tra l'altro c'è stato un attacco diretto sulla possibilità di ehm di ehm farla la diretta che avete sentito prima dopo il vangelo c'è stata fatta saltare la linea di solito qualche volta c'è un'interruzione ma riparte subito invece è stato deciso di troncarci ho dovuto fare degli archingegni adesso tecnici per andare in diretta comunque. Ci sono dei boicottaggi, dice Melania, insomma non sono un complottista ma oggettivamente oggi pare un po' surreale questa diretta da fare così, ma insomma un mi piace, un condividi e così le persone possono ascoltare comunque le cose che diciamo, potete invitare se volete i vostri amici a seguire la diretta di oggi, fate proprio un'invita agli amici in maniera che scoprono che c'è la diretta visto che il livello dei boicottaggi è diventato così significativo. Sta a voi adesso aiutarci appunto a seguire questa seconda parte di Stampe Vangelo, la prima parte con la lettura del Vangelo l'abbiamo già fatta, ora la seconda parte riguarderà, stavamo parlando appunto di libertà appena mi sono messo a parlare di libertà ci hanno chiuso la diretta perché dicevamo e abbiamo detto che la libertà c'è solo insieme alla verità e queste due cose marciano insieme ho letto una pagina del Vangelo particolarmente significativa evidenziando come il Vangelo sia sempre una pagina di rottura nella lettura dei fatti, è una pagina che divide anche questa non una pagina semplificatoria. Intanto saluto Mirco De Carli, Massimiliano Amato, grande successo di Gianfranco Amato a Sulmona anche con il Vescovo presente, saluto Giuseppe Fogone, saluto Giovanni Marco Tuglio, saluto Giovanni Fiori, comunque in un modo o nell'altro arrivate anche senza le notifiche alla vostra diretta e allora caviamocela facendo un condividi di questa diretta e se volete invitando i vostri amici a seguire la diretta mentre è in corso, mentre ce la fanno fare, non so fino a quando, ripeto, la prima parte della diretta ce l'hanno per la prima volta bloccata in maniera irreversibile. Allora arriviamo alle storie che hanno agitato questi giorni della liberazione, io ho detto veniamo dalla festa della liberazione, parlavo appunto dopo il Vangelo della questione della libertà che non può essere scissa dalla verità e mi dico adesso ho scomparso l'audio, adesso non voglio andare in panico da complotto, quindi vi piedo di dire ascoltate l'audio della diretta, si sente? Se sentite l'audio della diretta datemi un ok così io vado avanti sulle tematiche del giorno. Ci siete? Datemi un ok sull'audio, si sente l'audio? Sentite la diretta? Sì, sentite la diretta, perfetto, allora grazie a Mary Rossi che mi dà il segnale. Vi chiedo di nuovo di fare un'invita, oltre al mi piace e condividi, invitate i vostri amici per seguire la diretta di Stampe Vangelo così ovviamo a Facebook che ci ha impedito tramite l'assenza di notifica di avere il nostro consueto pubblico oggi per Stampe Vangelo. Un mi piace, un condividi, un invito ai vostri amici e ovviamo a questa difficoltà. Allora dicevo, veniamo dalla festa della liberazione il 25 aprile con tutta la solita retorica impastata di attenzione di una liberazione che riguarda a quanto pare solo le opinioni politiche di corrette, perché io negli ultimi 24 ore ho detto un paio di cose che penso pur essere tutto sommato banali. Ho detto questa storia, tra l'altro che non è certo una scoperta mia, dopo le elezioni di Macron in Francia, si dibatte da mesi di questa argomentazione, cioè del fatto che come sia innaturale il rapporto tra un uomo di 39 anni e una signora di 64 e di come questo possa condizionare la figura del Presidente della Repubblica Francese, che ricordo è una figura potentissima che assomma insieme alle cariche di rappresentanti istituzionali della Francia anche una vera e propria carica di capo dell'esecutivo, anche se nomina un primo ministro, ma un primo ministro che risponde direttamente al Presidente della Repubblica. Ora la domanda che molti si pongono è quanto questa signora condiziona, pare molto, questo marito tanto più giovane, la vicenda la conoscete, il ragazzo di 15 anni che si innamora della sua professoressa di 40, un grande classico della B-movie all'italiana diciamo così, eppure lì scattano le cose un po' strane perché insomma sapete che per esempio nella legislazione italiana se questo avvenisse la docente verrebbe messa in carcere, in America farebbe 20 anni di galera con 25 anni di differenza e un minorenne di 15 anni. Ora al di là di tutti questi elementi non voglio metterla sul giudiziario, non chiedo l'arresto di Brigitte, però politicamente non posso non notare che questo uomo 39enne pare essere piuttosto dipendente diciamo così da questa signora. E ho detto è qualcosa di naturale il rapporto tra un uomo di 39 e una donna che ha l'età a cui mia madre mi ha partorito. Allora, aver detto semplicemente posto questo tema, grazie a Nicola Pasqualato che ha ripreso la mia intervista di ieri alla Zanzara, grazie davvero Nicola perché ho detto un po' di cose appunto su questo argomento e su altro, è essere scatenato il pandemonio perché come ti permetti tu di giudicare? Io non giudico niente, vi chiedo semplicemente se nella vostra esperienza conoscete altre coppie in cui lei a 25 anni più di lui le considera le coppie normali, diciamo così, naturali. È chiaro che c'è un istinto naturale, parlare di natura non è parlare di qualcosa, è bestemmiare, parlare di natura è che è normale che un uomo tenda ad andare con una donna più giovane per le ragioni legate alla riproduzione, è un elemento classicamente naturale, mentre è innaturale sposarsi una donna sposata dieci anni fa, cioè quando aveva 54 anni e lui ne aveva 29 in piena menopausa, a 29 anni natura vuole che tu abbia un istinto a riprodurti, se ti sposi una di 55 evidentemente stai andando in una direzione contraria alla dimensione di natura. Tutto qui non è che volevo fare un giudizio etico, insomma è semplicemente qualcosa che non si verifica abitualmente, io non conosco e ho esperienza diciamo di molte molte migliaia di persone, grazie a Dio conosciute personalmente, io non ho un caso di un dislivello di coppia nel matrimonio così significativo tra donne uomo, 25 anni, non ne conosco una, la prima volta che mi imbatto in una storia del genere è nella storia di Macron e della Brigitte. Ora, poiché Macron non va a fare il mio consigliere, il mio amministratore di condominio, va a fare il presidente di una delle cinque potenze economiche del mondo, allora uno va là e un giudizio può anche esprimerlo e non credo sia niente di male, ma oltretutto questo giudizio viene espresso con grande nettezza anche sui giornali francesi, c'è un dibattito sulla presunta omosessualità di Macron, è stato indicato quello che dovrebbe essere l'amante di Macron, coperto dalla situazione di Brigitte, tutto questo è avvenuto non sui giornali di gossip, ma su Le Figaro, il fidanzato che viene assegnato a Macron è il capo di Radio France, cioè è qualcosa di molto netto, come dice Danilo Leonardi, Paolo Mieli commettando i risultati elettorali ha dato un giudizio molto duro su Macron, definendo certamente non capaci di autonomia, di scelta e di giudizio. È quello che ho provato a dire, insomma. Credo che da questo punto di vista segnalare un elemento abbia a che fare con il nostro lavoro, quando facciamo questo lavoro appunto di commentatori del reale, perché noi siamo per la famiglia naturale, lo ripetiamo sempre quando facciamo le nostre iniziative come Popolo della Famiglia. Dunque questo tipo di meccanismo non possiamo non segnalarlo prendendoci tutti gli insulti. Eravamo nel giorno una festa della liberazione, quindi questa festa della liberazione come funziona? Che si possono dire solo le cose che i liberatori decidono che puoi dire? No, perché ho letto la, come si chiama, la Presidente della Camera che dice che bisogna chiudere le pagine geneticamente fasciste, così in genere. Ora io non sono un fascista, come è noto, insomma, provengo da un'altra storia, ma mi pare surreale, insomma, come si identifica una pagina di natura fascista, perché bisogna chiudere quelle pagine? Come si fa? Chi lo decide? La Boldrini? Insomma, io sono un po' preoccupato da questo metodo. Dopodiché mi sono provato a occupare di un'altra storia, un'altra storia credo abbastanza rilevante perché avviene domani. Domani ad Aversa, in provincia di Caserta, un signore che si chiama Giovanni e che per gli strani meccanismi del lobbismo all'italiana è riuscito a avere i documenti facendosi chiamare Alessia, pur non avendo affrontato l'operazione chirurgica, essendo in tutto e per tutto un maschio, ma con la carta d'identità su cui c'è scritto Alessia. Bene, questo signore dopo aver ottenuto la carta d'identità adesso fa il matrimonio domani ad Aversa. D'accordo? Ora, la questione è, la vicenda di questo signore che si fa chiamare Alessia è tutta gestita da un'associazione che si chiama Associazione Transessuale Napoli, che ovviamente fa i comunicati stampa, gestisce, fa le foto, manda i giornali, insomma fa quel classico tipo di attività che serve a dar luce all'associazione. Ora, strumentalizzando tutto, si deve arrivare per forza a strumentalizzare l'istituto del matrimonio? È proprio necessario? Sono tutti comunicati stampa, chittati, con la fotografia del tizio, con la tizia, e guardate qualcosa, questo adesso si mette col suo miglior amico. Io voglio dire, signori, ora va bene tutto, ma se uno può semplicemente dichiararsi femmina e ottenere i documenti da femmina perché lo sente, è come se io vi volessi convincere che mi sento magro e per questo sono magro. Non è così. Se noi cominciamo a iniettare nel sistema giuridico il concetto di autodeterminazione fino ad arrivare al punto che se uno si sente Napoleone può avere sulla carta d'identità scritto Napoleone, questo non va. Questo non è stato un disastro. Saluto Luca Cipriani, un abbraccio a Giovanni Albicini, ad Andrea La Rosa, a Massimiliano Esposito. Ora, è chiaro che questo elemento non può essere mai considerato e meno che mai all'origine di un matrimonio che è semplicemente una carnevalata voluta dall'associazione per fare, come al solito, cancan e far sì che tutti ne parlino, noi compresi. Noi siamo purtroppo funzionali al loro disegno. Fatto ci siamo noi, ovviamente dilata l'attenzione sulla questione, ne ho parlato anche ieri alla Zanzara. Priscavegni chiedono, potranno adottare? Certo, potranno anche adottare. Perché? La signora si sente signora e in realtà un signore. Allora, questo tipo di meccanismo è un meccanismo estremamente pericoloso. Giuridicamente pericoloso e, come dice Fabrizio Pessa, assurdo. Si ve lo dà, intanto si preoccupa perché gli ascolti sono dimezzati. Oggi non hanno voluto dare la segnalazione della nostra diretta e dunque ci troviamo con gli ascolti dimezzati. Possiamo ovviare invitando i nostri amici a seguire la diretta in questo momento. Saluto anche Nicola Di Matteo, il nostro coordinatore nazionale. Allora, noi arriviamo a questo tipo di assurdo. All'assurdo che non possiamo dire che se una donna di 25 anni più giovane stacca uno di 39, forse lo manipola e c'è qualcosa di strano in quella coppia. Non possiamo dire che è una coppia non naturale. Non possiamo dire che se un uomo si trasforma in donna semplicemente perché va a chiedere la carta di identità e gliela danno con un nome da femmina qualcosa in questo senso non va bene. Non lo possiamo dire. Io ho provato a dire questi due banalissimi argomenti nel giorno della festa di liberazione in cui uno dovrebbe dire almeno la libertà di parola è stata difesa e voluta dalla lotta partigiana contro il totalitarismo e invece ci troviamo con un nuovo totalitarismo. Che noi questi argomenti non li possiamo utilizzare. Giovanna Ossidasi dice tu lo puoi dire e noi possiamo dire che hai torto. Certo, questo è il dibattito delle idee, ma vatti a leggere le risposte che hanno dato ai due post che hanno attraversato questo argomento. Leggete le risposte. Sono una raffica di insulti grevi, vergognosamente grevi, Giovanna. Lo dico a Giovanna Ossidasi che insiste dicendo che ovviamente siete liberi di contestare la mia opinione, ma vai a leggere il 95%, il 99% dei commenti sono di un insulto, di un vergognoso, di un linguaggio tremendamente osceno. Senza argomenti, senza un contrasto, un conflitto di argomenti. 99%. Basta leggere, li stanno lì. Tra l'altro non uno, migliaia, con il concetto proprio del manganellamento dell'opinione altrui. E se qualcuno dei nostri provava a difendere, veniva manganellato pure lui. È il meccanismo tipico dei concetti totalitari, in cui manganellate me, ma io ho la pelle grossa e reggo i vostri manganelli. Ma poi quando arriva qualcuno a voler sostenere la tesi, lo massacrate e quello smette di avere la forza per dire la sua opinione. E questo è gravissimo. Così come è gravissima oggi questa censura che è stata operata nei confronti della nostra diretta, senza disegnalazione. Giussi racconta che nonostante avessi attivato gli aggiornamenti non ricevo segnalazioni della diretta. Capito come funziona da noi? Funziona così. Allora, noi dobbiamo sapere che purtroppo funziona così con i nostri argomenti. Maria Pia di Girona dice contestare e non offendere. Se ne leggono gli insulti alla persona di Norfi. Si leggono migliaia di frasi o scene. Come dice Melania Simone? Sono squadristi. Daniele Leonardi. Oggi si battono le mani al nuovo totalitarismo da pensiero unico come ieri si faceva con Hitler e Mussolini. Esattamente. Saluto Dario Marcello Soldan che parla di totalitarismo radical chic. Jacopo Pioli. Sai quanti mi contattano in privato quando commento un tuo post? Il meccanismo di intimidire qualsiasi nostro amico. E Silvia lo dà. Ci entra il punto dicendo che chi non ha argomenti può solo usare il turpiloglio. Ed è esattamente questo. Andate a leggere quei post. Non c'è un argomento contro i nostri argomenti che noi abbiamo posto solo in termini argomentati. Mai con insulti alle persone. Si trovano solo insulti. Solo insulti. Saluto anche Tiziana Mezzadri. Come dice bene Melania Simone vuol dire che fai paura. Facciamo paura. Il popolo e la famiglia fa paura. Fabrizio Fessa conferma non ho ricevuto la segnalazione della diretta. Fate un mi piace e un condividi per far sì che la nostra diretta sia seguita da più persone possibili e invitate gli amici a seguire la diretta di oggi. Invitate gli amici in maniera che si possa ovviare attraverso questa vostra attività all'evidente censura che abbiamo subito ancora una volta da parte di Facebook. Saluto Marcello Faustino. Saluto Mauro Rotunno. Saluto Elena Taddei. Ever Geno. Coraggio avanti dice Danilo Nonardi. Confermo l'assenza di notifiche. Una censura da regime. Allora se noi abbiamo questo chiaro. È la festa della liberazione. Noi proniamo degli argomenti forse scomodi ma li poniamo sempre con correttezza. Correttezza senza mai insultare le persone. A risposta delle nostre parole arrivano solo valanghe di insulti e mai contestazioni delle cose che abbiamo detto. Insulti alla persona. Spesso insulti a mia moglie, alle mie figlie. Questo non è totalitarismo. Se i nostri amici intervengono vengono manganellati. gli viene resa impossibile la argomentazione. Vengono insultati costantemente e radicalmente. E giustamente dopo un po' smetto di voler venire a difendere la posizione. Quindi dice Valadmiro Campello. Ho visto i commenti. Assenza totale di sostanza. E anch'io sono stato oggetto di mancanza di contenuti. Saluto Andrew Clemens dall'Australia. Nonostante tutto è arrivato alla diretta. Ora, questo non è totalitarismo. Queste frasi oscene che cita Silvia Lodà, innumerevoli e innumerevoli volte dirette anche contro la mia famiglia, non sono un atteggiamento totalitario, non sono vergognose, non andrebbero stigmatizzate da Laura Boldrini, non sono fascismo, totalitarismo. Perché se la libertà è solo la libertà di parlare, di cantare, dicevo, se la libertà è solo la libertà di cantare nel coro, hanno visto che i numeri diventavano troppo alti e hanno di nuovo bloccato la diretta. Vi faccio notare questo. Rispondiamo invitando i nostri amici a seguire la diretta comunque. Io andrò avanti, io andrò avanti. Nonostante questo atteggiamento totalitario. Il video viene continuamente interrotto, come dice Sonia Franchi. Cioè, oggettivamente, questo è il giorno, il 26 aprile, il giorno dopo la festa della liberazione. Questo è il modo, è il modo con cui si intende la libertà. Puoi cantare nel coro. Se canti una nota fuori dal coro, ecco quello che ti succede. La manganellatura continua. Quello che Alberto Agus segnala, l'abbandono dei nostri profili da parte di contatti amici che scelgono l'indifferenza, giustamente. Grazie a Nicola Pasqualato che ha messo su YouTube la mia intervista ieri sera alla Zanzara. La diretta oggi è faticosa da seguire, ma ieri ho detto più o meno questi argomenti sulla diretta della Zanzara. Quindi prendete, grazie a Nicola Pasqualato, anche quell'intervista. Magari la fate circolare. La libertà di parole è per pochi, dice Mauro Rotunno. Saluto Giuseppe Focone. Ci vuole una nuova liberazione, esattamente. E come dice Alberto Agus, noi continuiamo a combattere. Sono una serie di iniziative, tra l'altro una raffica di iniziative. C'è un'iniziativa proprio il PDF della Sardegna. Torno in diretta sostanzialmente per salutarvi, perché ho capito che oggi siamo sotto bombardamento e non ci faranno andare avanti. Tenete presente tutto questo. Tenete presente che per il popolo e la famiglia parlare è diventato difficile. Questo strumento è uno strumento che coinvolgeva migliaia e migliaia di persone. È uno strumento che adesso hanno scoperto essere per noi efficace e dunque ce lo attaccano in questa maniera sconsiderata. Sono già al terzo riavviare la baracca. Nessuna segnalazione agli amici. Sono davvero molto colpito da questo atteggiamento anche del social network, che almeno una volta segnalava l'avvio delle nostre dirette. Invece adesso ha deciso di boicottare la nostra attività al punto di non segnalare neanche la nostra diretta e di attaccarla appena raggiungere i numeri significativi. Questo è quello che succede. Questa è la libertà di informazione che evidentemente i loro signori hanno costruito dopo la festa della liberazione. Speriamo sia solo una falla di oggi. Domani mattina ci riproveremo, ci ricollegheremo. Jacopo Pioli dice non ti scoraggiare. Non mi scoraggio. Io sono in battaglia. Vengo da tre giorni a Ventotene. Ripeto, abbiamo sei iniziative. La Sardegna, il PDF Sardegna. Gianfranco Amato e Reduce era una grande iniziativa a Sulmona. Io sarò presente alle iniziative del Popolo e Famiglia di Roma per la scuola di formazione politica che comincia il 4 maggio alle ore 20.15. Ci troviamo nella parrocchia di Via dei Genieri a Roma per fare il corso di formazione politica. Prima lezione alle 20.15 del 4 maggio segnalate a chi fosse interessato. Giuseppe Brienza e Sara Deodati che organizzano l'iniziativa. Potete contattarli anche qui su Facebook se volete iscrivervi al corso di formazione sulla dottrina sociale della Chiesa. Il 5 terrò un convegno alla Dispoli. Il 6 sarò a Padova per rafforzare la raccolta firme per la lista del Popolo e la Famiglia a Padova. Poi ci incontreremo in tutti i comuni dove il Popolo e la Famiglia si presenta alle elezioni da Avola, pensate, profonda Sicilia, fino ad Alessandria, a Borgo Manero con Alberto Cerutti, a Verona con Filippo Grigolini, a Padova con Eliano con Lorenzo Damiano, come ho detto ad Alessandria, a Genova, a Monza, a Crema e insomma nei tanti luoghi dove Civitanova Marche, Riolo dove è candidato sindaco il nostro Mirko De Carli. Ovunque ci sia da sostenere la lista del Popolo e la Famiglia noi ci saremo. Nonostante qualsiasi difficoltà, nonostante il tentativo di obbligarci a cantare nel coro, noi non cantiamo nel coro, noi continuiamo. Nonostante i boicottaggi, nonostante la diretta di oggi costretta a fermarsi tre volte, è davvero sconcertante quello che stiamo subendo. Nonostante gli insulti a valanga, se proviamo a dire cose banalissime, banalissime, di senso comune, diciamo così. Ieri però abbiamo avuto per fortuna un'intervista alla Zanzara, abbiamo parlato a due milioni e mezzo di persone. Oggi Nicola Pasqualato, che ringrazio il PDF del Veneto, ha messo l'intervista su YouTube, quindi può essere recuperata e fatta trasmettere su alcune questioni rilevanti. La questione del matrimonio che si celebra domani tra un trans e un uomo in sfregio alle normative vigenti, la questione di Macron e del suo matrimonio oggettivamente fuori dal territorio della naturalità, poi ognuno può amare chi gli pare, questo è ovvio, ti può innamorare di un tavolo, di un cavallo, figuriamoci ovviamente se non ti puoi innamorare di una donna più anziana, questo è ovvio, però nella vostra conoscenza sono certo che non avete, non avete neanche una, e io ne conosco ormai migliaia e migliaia di coppie, neanche una esperienza di una coppia che è sposata con lei che ha 25 anni più di lui, quindi vuol dire che con ogni probabilità questo non attiene ai comportamenti naturali e questo implica, visto che stiamo votando che il Presidente della Repubblica è una nazione importantissima, un surplus di riflessioni. Stiamo crescendo e forse anche questo influenza i blocchi che avvengono qui su Facebook, come dice Anna Russo, saluto Simona Bartoli, saluto Leonardo De Stefano, saluto Irene Stagliano, Jacopo Pioli dice mia moglie ha 7 anni più di me, ma 7 anni è normale, insomma si può essere, anche io ho avuto una relazione abbastanza importante con una donna che aveva 4 anni più di me, siamo nell'ambito naturale, una cosa è che ti sposi tua madre però, ragazzi è diverso, io sono nato da una donna di 24 anni, questi hanno 25 anni di differenza, la questione c'è, indubbiamente c'è, senza ombra di dubbio, ma non è che l'ho inventato io il tema, in Francia ne discutono da mesi, quindi insomma evidentemente più laicamente continuano ad essere persone che hanno un senso delle cose più significative, e Brigitte, come dice Giuseppe Brienz, era anche la professoressa di francese, quarantenne del quindicenne Emmanuel Macron, ora se questo è normale, questo è reato, non è normale, poi Brigitte ha lasciato marito, tre figli per rincorrere il quindicenne, roba surreale, però è tutto normale, se tu dici qualcosa sei uno che non capisce l'amore, e invece come dice bene Giuseppe Brienza, in realtà semplicemente il signore è molto teleguidato da questa evidentemente presenza carismatica nella sua vita, dicevo anche del matrimonio trans che abbiamo affrontato come argomento, se qui è normale che uno va a dire sono Napoleone e ti danno una carta di identità da Napoleone, vuol dire che il nostro ordinamento giuridico è prossimo ad andare a puttane, lo dico proprio papale papale, se poi su questo fai pure il matrimonio perché devi fare la pubblicità all'associazione transessuale Napoli e così ottiene visibilità e magari finanziamenti pubblici da De Magistris, allora si capisce tutto, ma l'insulto ulteriore all'istituto matrimoniale è evidente per tutti, se se quando noi diciamo questi argomenti poi veniamo subissati da migliaia di insulti e solo insulti, nessuna argomentazione, un massacro mediatico che non ha precedenti, e allora la lezione della festa di liberazione non c'è, la festa di liberazione è la liberazione di quelli che cantano nel coro, se uno decide di andare a cantare fuori dal coro, ragazzi quello che si subisce è questo e lo dobbiamo sapere, e lo dobbiamo sapere, Massimiliano Esposito ricorda giustamente che la cosa più assurda è che quelli che oggi difendono Macron ieri bastonavano Berlusconi, Parenzo diceva che non si guarda nelle nensuola, poi dopo sono stati vent'anni a guardare nelle nensuola di Berlusconi, questo è oggettivo, è un dato davvero oggettivo. Allora è tornato anche Alberto Agus, così magari mi ricorda quando c'è l'iniziativa in Sardegna, che non mi ricordo se è oggi o il 2 di maggio, per cui ho forse sbagliato data, ma sicuramente Alberto saprà segnalarlo, saluto Stefano Stefani, quindi ho ricordato le iniziative varie che abbiamo come popolo e la famiglia in tutta Italia, Silvia Lodà dice si chiama Parenzo, quello della vocina isterica, si esatto, si chiama David Parenzo, e ascoltate farmi il controcanto ieri durante l'intervista che ho dato alla Zanzara, ieri abbiamo avuto uno spazio anche abbastanza significativo, quasi mezz'ora con la Zanzara. Jacopo Pio dice, Parenzo si è contraddetto nel tuo intervento rispetto a quello che ha detto all'inizio puntata, un pupazzo, va bene. Ecco Alberto Agus che segnala l'iniziativa di Cagliari il 4 maggio alle ore 18, presso l'università della terza età a Cagliari, esattamente, Giuseppe Focone dice che i totalitarismi non riuscirono a ottenere con guerra e carri armata quello che non riuscirono a ottenere ieri lo tengono oggi con finanza e banche. Saluto Leonardo De Stefano, saluto Stefano Sigali, che vuole che faccia il presidente del consiglio stringiamo i tempi, sarà dura ragazzi, ma noi la battaglia la facciamo con grande nettezza e poi l'importante non è che sia io, che arriva al popolo della famiglia, questa è la cosa più importante. Saluto Anna Russo, Romana Cordova, il titolo dell'iniziativa della Sardegna è Ripartire dalla famiglia per l'uomo. Saluto Rosa Grazia Pellegrino, Leonardo ci scrive da Aprilia. Saluto Melania Simoni, che dice che ci sei bloccato di nuovo. Noi per la verità in questo momento continuiamo a lavorare. Saluto Alex Zino, che dice che lavoriamo a mani nude. Costantino Montebove. Io ho già ricordato, lo dico a Giuseppe Brienza, che c'è la scuola della dottrina sociale della chiesa per il 4 maggio a Roma, ore 20 e 15, via De Ingenieri. Per info scrivere a Sara Deodatti per mail deodatisara.pdf.gmail.com. Saluto Leonardo De Stefano, appunto, di Aprilia, che saluta Nicola a sua volta. Saluto Paolo Brescia. Paolo Brescia dice che non capisce la valutazione politica con quella della sua vita privata. La vita privata di un politico non esiste, è pubblica. La mia vita privata, e sono uno non candidato alla presidenza della Repubblica Francese con chance importanti di vincere, come è Macron, la mia vita personale, è vivisezionata, analizzata, messa in piazza, con le conseguenze inevitabili per i miei familiari. E, come dicono sempre, guido un partito dello 0,6%. Se sei candidato alla presidenza della Repubblica Francese, è normale, è naturale che la tua vita privata abbia un risvolto di natura politica. Se Berlusconi si portava le ragazzine in casa, questo elemento non era un elemento solo della vita privata di Berlusconi, era anche un elemento di rilevanza pubblica. Quindi su questo non mi lamento io, ovviamente poi nei miei confronti viene fatto qualcosa di surreale, ma ovviamente quello che avviene lo prendo come anche prova, diciamo così, per la tenuta della forza della iniziativa. Tutto quello che faccio inevitabilmente è raccontato con Dovizia di Petrucasa. Sono stato spiato con le fotografie mentre infilavo la chiave nella toppa di casa. È inevitabile. Ciò che è privato per un esponente politico è inevitabilmente anche pubblico. Allora, l'inaugurazione è a Roma alle ore 21, con Adinolfi di Matteo Vettoriero, 4 di maggio per la scuola della DSC. Sono ancora aperte le iscrizioni. Moreno Stringola dice che belle guanciotte tutte da mordere. Insomma, 20 e 15 era per gli organizzatori, ho capito. L'appuntamento alle 21, gli organizzatori alle 20 e 15. Iacopo Pioli vorrebbe essere alla scuola di Roma, ma è in Cina, quindi diciamo abbastanza impossibilitato, diciamo così. Ma potremmo fare una succursale nel sud-est asiatico. Vediamo un po' se ci riesce. Oggi puntata andata così, insomma, un po' travagliata, però in qualche modo i messaggi li abbiamo inviati. Sono stato tre giorni a Ventotene a costruire condizioni per la presenza del popolo e la famiglia alle elezioni di Ventotene. Ci sarà il popolo e la famiglia a Ventotene. Stiamo decidendo se con la candidatura mia personale o con la candidatura di un locale che può avere proprio la possibilità di vincere le elezioni e dunque di governare il comune di Ventotene con il simbolo del popolo e la famiglia. Vediamo qual è la scelta che i locali vorranno assumere. Io mi sono messo a disposizione ed è stato un grandissimo momento di incontro con una popolazione, una realtà, che hanno voglia di puntare sulla famiglia per far rinascere un posto meraviglioso, meraviglioso, come l'isola di Ventotene, per rifondare un'Europa basata sul diritto universale a nascere, lo ripeto, e non su questa Europa di banchieri, di burocrati, di persone che pensano solo a fare i propri interessi e a struzzare l'interesse delle popolazioni. È arrivata Sara Deodati, ecco l'iscrizione alla scuola della DSC. Una nuova edizione della scuola della DSC a luglio a Ventotene, lo escluderei, Brienza, perché Ventotene a luglio è strapiena e stracara, però magari a ottobre si potrebbe pensare di approfittare di un'isola meravigliosa e di un tempo che è ancora clemente. Io ad aprile ho fatto il bagno, insomma, nell'acqua meravigliosa di Ventotene, quindi vediamo di avere in mano magari il comune, che ci mette in condizione anche di farlo nella maniera migliore possibile. Sarai dotato in vita di iscriversi alla scuola di Dottrina Sociale della Chiesa. Nicola Di Matteo dice paga Brienza, ecco, sarebbe per tutti proprio. Bravo Nicola, un saluto al nostro Nicola Di Matteo. Allora, col sorriso vi saluto, nonostante tutti gli incidenti della diretta di oggi, nonostante le mancate notifiche, nonostante le censure, nonostante le manganellature, il popolo e la famiglia è in battaglia, in battaglia in tutta Italia per le amministrative. Ricordo che entro l'11 maggio dobbiamo presentare le liste, quindi tutti al lavoro ora per presentare le liste nelle amministrative, questa è la priorità del popolo e della famiglia, ricordiamoci, tutti al lavoro a presentare le liste del PDF per le amministrative. C'è tempo fino all'11 maggio, poi dall'11 maggio all'11 giugno si fa la campagna elettorale, l'11 giugno si vota, e misureremo una grande crescita del popolo e della famiglia nelle urne, cosa che rappresenterà la spinta definitiva a portarci oltre l'ostacolo del 3% dello sbarramento che ci conduce in Parlamento. Quindi in questo momento la priorità, la nostra priorità deve essere una battaglia a tutto campo, sul territorio per raccogliere consenso per il popolo e la famiglia. Questo è quello che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare costantemente, quotidianamente, aiutando gli amici che in questo momento stanno facendo uno sforzo enorme per chiudere le liste e raccogliere le firme. Questo è quello che dobbiamo fare in questo momento per far sì, per far vedere che la nostra voce non può essere soffocata, perché è una voce rappresentativa di un popolo. La dimostrazione che siamo rappresentativi di un popolo avviene attraverso il consenso che ricaviamo nelle urne. Quindi, forza BDF, come dice Silvestro Vultaggio, andiamo a prenderci quello che è nostro, andiamo a prenderci il consenso necessario per avere un risultato importante alle prossime amministrative dell'11 giugno. Saluto Francesca Patuzzi, bellissima Francesca, un abbraccio al popolo. Saluto Giuseppe Focone, saluto Mauro Rotunno. Sara Deodati ripete l'email per le iscrizioni al corso della dottrina sociale della Chiesa a deodatisara.pdf.gmail.com Alex Zino dice facciamo il popolo che tira fuori i coglioni, lo possiamo dire, tiriamo fuori i coglioni e andiamo a vincere queste elezioni amministrative e a dare un segnale importante a tutto il paese col PDF e nonostante tutte le condizioni avverse e anche l'impossibilità di farci parlare riesce a raccogliere consensi in tutta Italia e a crescere a queste amministrative. da Bolzano a Davola ci saremo presentati alla fine del 2017 con le elezioni dell'11 giugno 2017 le nostre presenze saranno state ovunque da Bolzano a Torino a Bologna a Milano a Napoli a Roma a Crotone a Davola a Alessandria a Padova a Conegliano a Monza a Crema a Genova davvero saremo stati dappertutto e stando dappertutto con i consensi raccolti potremmo dire che l'alternativa possibile alla cultura nichilista antiumana figlia della cultura della morte dell'attuale sistema politico ha un'alternativa che può essere sottoposta al giudizio degli elettori e siamo noi è il popolo della famiglia è un elemento fondamentale che noi ci rendiamo conto del lavoro che dobbiamo e possiamo svolgere lo misureremo nelle urne il nostro consenso dopodiché quello sarà e quello noi porteremo a disposizione dell'Italia del nostro mondo per rappresentarlo il più degnamente possibile vi ringrazio davvero di tutto per l'attenzione la mail dell'iscrizione lo ripeto è deodadisara.pdf chioccio a gmail.com come dice Alessandra Passanti Francesco Vigna dice di astenersi dal tirare in ballo la natura come argomentazione a sestegno delle sue tesi la natura è natura se io voglio figliare Francesco Vigna vado con una donna più giovane perché la natura mi porta a questo d'accordo se io vado con una di 64 anni i figli non vengono la natura ha deciso questo se io vado con un altro uomo i figli non vengono sono dati di fatto ineliminabili poi voi potete raccontare la storiella dell'autodeterminazione ma l'autodeterminazione non esiste perché con l'altro uomo il figlio non lo fai con quella di 64 anni il figlio non lo fai e potete raccontare tutte le favole del mondo ma natura è natura è qualcosa di ineliminabile dal dato reale dal contesto reale umano perché noi siamo parte della natura e rifiutare ciò che è evidente ciò che è giusto perché è evidente è follia irrazionale io se dico sono magro e la mia autodeterminazione che tu sia obbligato a definirmi magro sto facendo qualcosa da cura psichiatrica lo capisci o no? se io dichiaro di essere Napoleone Bonaparte non posso andare all'amministrazione comunale e chiedere che sia stampata da un documento una carta di identità in cui c'è scritto sei Napoleone Bonaparte non si può fare se costruisci le condizioni del genere l'ordinamento giuridico salta per aria come fai a prescindere dalla natura? dice Alex Zino Emiliano Velasco la povera gente che crede che la televisione sia la vita vera esatto Fabrizio Pessa non si può andare contro natura è un'illusione che genera follia se tu sei nato uomo uomo sei se tu vuoi un figlio non vai con quella di 64 anni e se tu a 29 ti ritorni a fare il nonno acquisito dei nipoti di tua moglie e non c'è qualcosa che non va esistono altri casi in natura che ti raccontano questo nelle vostre conoscenze nelle vostre coppie che conoscete perché non c'è perché la natura istintivamente guida ciascuno di noi a fare cose razionali e abbiamo detto l'ovvio anche oggi e continuiamo a ribadire che 2 più 2 fa 4 e a beccarci manganellate e insulti e censure perché diciamo che 2 più 2 fa 4 ma questo è il lavoro che fa il popolo e la famiglia questo è il lavoro cestertoniano e cristiano che fa il popolo e la famiglia e non c'è niente da fare lo continueremo a fare finché possiamo anche se la natura spaventa anche se il popolo della famiglia spaventa Costantino Montebove scrive una frase precisa che io ho in testa da sempre e non recito perché altrimenti me la veramente mi chiudono il profilo si valutati c'è tanto non vogliono capire che la traduzione è una frase di Costantino Montebove capiranno capiranno perché piano piano le mode come ho detto ieri nell'intervista alla Zanzara non seguite le mode le mode passano la natura resta le mode passano d'accordo la moda vegana ieri parlavo anche sta follia di non dare la carne ai ragazzini ma possiamo pensare a roba del genere le mode passano la natura resta ciò che siamo è ineliminabile Giuseppe Focone dice c'è stato bisogno di fondare il popolo la famiglia per dimostrare che 2 più 2 fa 4 per testimoniare che 2 più 2 fa 4 oggi ho pure riso parecchio dice Jacopo Pioli la cosa divertente è che poi riusciamo a fare tutto questo sempre col sorriso sulle labbra sempre col sorriso sulle labbra allegri allegri lo dicevo ieri a una che mi ha insultato in maniera iper brutale mi ha detto ma ti rendi conto c'è dentro una rabbia da bava la bocca e io sto qui sereno a sorridere della tua rabbia è un po' dispiaciuto nel vederti così arrabbiata anche perché la persona si chiama Letizia io pensavo come si chiama Letizia non dovrebbe essere lieta diciamo una giornata meravigliosa col sole stava lì su facebook a insultare in maniera folle capito è arrivato anche Giuseppe Di Nolfo a dirci che Dio non esiste a posto tutto a posto Giuseppe Dio non esiste ma tu stai qua nella trasmissione si chiama Stampe Vangelo invece di farti una bella passeggiata col sole straordinario che c'è oggi fuori e vuol dire che Dio esiste perché ti ha condotto fino a noi magari poi riflettendo sulla tristezza della tua vita che ti costringe a seguire Stampe Vangelo per dire Dio non esiste capirai che insomma da qualche parte alla fine andremo a a sfociare diciamo così perché così è inevitabilmente un abbraccio a tutti voi scusate per le tarantelle inevitabili di una giornata in cui la diretta ce l'hanno fatta fare così per fortuna è sempre l'angelo custode che ci protegge e allora un saluto a Stefano Sigari che dice sono pieni di bile verde muschio ed è così fate mi piace e condividi alla diretta di oggi e con un sorriso andiamo a salutare tutti coloro che abbiamo attorno chiedendo loro il sostegno ai progetti del popolo e della famiglia il sostegno alla verità e uno sguardo sulla natura per capire come funziona e per capire che la autodeterminazione è l'ennesima moda transitoria destinata a tramontare se non tramonterà sarà la fine per l'essere umano perché la natura non può scegliere la strada dell'infecondità se la strada dell'infecondità viene intrapresa e il matrimonio di Aversa di domani matrimonio inevitabilmente infecondo fra un uomo e un uomo diventa la moda corrente vincente addirittura imposta e allora lì è la fine dell'essere umano come è ovvio la fine dell'essere umano determinato dalla natura è una fine determinata dalla natura per cui occhio a quello che accade che se ci sposiamo ai 64 anni o andiamo a maschi per l'essere umano è finita è questa la cosa per l'essere umano è finita va bene un abbraccio da Maria Di Nolfi a tutti voi vi chiedo davvero un mi piace un condividi perché questa diretta possa essere eseguita da più persone possibili e da Maria Di Nolfi sperando che domani tutto funzioni meglio un abbraccio e un saluto a ciascuno di voi